Leone questa mattina fa i capricci, non vuole fare colazione e Fede se gli dice se non mangi chiamo il dottore. Amore se non fai colazione chiamo il dottore. Non sto per chiamare, vediamo, dottore. Pronto dottore? Salve. Allora Leone forse non fa colazione. Vediamo cosa mi dice il dottore. Dottore? Salve, come va? Tutto bene dottore, ma che voce strana che ha dottore. Io ho un po' la voce così, sai. Ma io ho visto che muovevi così un po' la bocca. Io? Io muovevo la bocca? È il dottore amore. Hai visto un po' così l'ho vista. Hai visto un po' così amore? Secondo me no, era il dottore. Sentiamo, dottore mi sente? Sì, lo sento, come va? Ma io ho visto che fa fuori il testo. Il mio mento? Sì. No, secondo me no, aspetta, vediamo. Dottore mi sente? Sì, la sento. Ma io ho visto anche questo, vedi. Cosa hai visto? Ah, questo qua. Sì, sì, sì. Fedezza fa finta di chiamare il dottore, ma Leone, furbetto, gli dice che si muove il mento. Sì, sì. 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 Grazie a tutti